Wow! Oddio mio! Oh oh! Ah! Oh! Oh, oh! Oh! Oh... Oh... Oh, no, fa' c'è il video poi va a vedere! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Nihobo Ma inna Ah Ciao Tutta 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 No 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 Oh No Ma che ragazzo mi sono spaventato anche io Mi sono spaventato anche io Sì, sì, sì. Sì, è più incerto.